Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati a un nuovo video Scusate se non ho fatto il video da molto che stavo male E quindi Non ho potuto farli E poi magari qualche volta mi è scappato un video Ma per sbaglio Ok ragazzi, oggi vi voglio fare Un breve video Vi voglio fare vedere tutte le nuove skin Ci sono le nuove skin Bellissime di Natale Guardate qua, questa Questa, 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 questa non è di Natale Ci sono tutte le Legendaria, la mia preferita è questa Poi c'è questa, questa, questa Di Novel Guy Questa la, l'ho oggi Cioè Cioè È brutta poi Non è proprio bella È bruttissima, cioè Non è proprio un bolotto È più brutta Questa è la peggior skin Che potessero fare Poi c'è Christmas Future È anonima Questa cosa Nessuna l'ha mai usata In un video Poi ci c'è il Cyber Lo Sprintless Ci sono un botto di skin Che però io devo trovarle Che io le devo trovarle Ci sono le nuove animazioni Questa qua Così L'aeroplano che ci ragiona un po' Le nuove mot Questa qua Questa nuova Anche questa E poi c'è questa E poi questa Guardate che è bellissimo Le animazioni Scurate che è un po' Mi ha mandato qualcosa di te adesso Tutti i passi Io ho mandato questo Che mi piace Anzi no Quello delle note è molto bello Oggi vorrei fare una super cosa Vi vorrei fare vedere Anzi vorrei farvi vedere una cosa E fare dei tipo Dei giochetti Allora Mamma mia Da oggi praticamente Si potrà Da oggi in poi Creare dei gruppi personalizzati Praticamente potete scegliere Ciò che volete Potete scegliere Le mappe che volete Potete riempire Il game con quanti giocatori volete Con il run che volete E potete scegliere le mappe E con la nuova Mappa Hot Wheels Astor È veramente Un botto E io le ho scelte queste Le ho già scelte prima E proviamo a crearlo E vediamo poi se funziona Perché non si è detto Guardate quanto è bello Io vorrei provare Un trucchetto Sulla nuova Sulla nuova Mappa Il problema è che Non ho tanto tempo Quindi se Ci sono degli altri giocatori Loro pensano giocare Io penso a fare i trick Quindi perdo tempo Però Ho una notizia Che non è tanto bella Cioè però È giusta questa cosa Che praticamente Si create il gruppo personalizzato Quando vincerete Non potete Non potrete avere Ricompense Perché se ad esempio Fate Una mappa Che vi piace moltissimo Che per voi È facilissima E mettete solo Un round E mettete E lo riempite Con solo una persona Così a barare Cioè il gioco È troppo semplice Ok ragazzi Iniziamo qua Guardate qua C'è un trick qua Che si può andare su Qua Aspettate Che vado giù Ve lo faccio vedere Qua Tara No Non mi Non mi Viene Bisogna fare così Tipo Guardate qua E andare su E si può andare su Fino a qua E qua ci sono le macchine Se si Su stumble guys Non c'erano le macchine Da prima Ma andrei Ve li porto È tutto vero Ragazzi È tutto vero Se scaricato Il nuovo aggiornamento Ci sarà anche Ma no Su stumble guys In questo Viene 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 Ok Dai Oh di poco Guardate qua Vado Nell'alligatore E vai Ce l'ho fatta Mi qualifico Mi sono qualificato Ok Partiamo Con La seconda Tanto Questi sono nab Quindi io Ce la faccio Anche se faccio Il trick Quindi vi faccio Vedere dei trick Allora Andiamo qua La seconda mappa È Questa Super slide Ah vabbè Il trick Quali sappiamo tutti Facciamo una bella partitella 3 2 1 Un trick Vabbè qua Lo sanno tutti Oddio Non ti permettiamo Poi qua c'è questo Ti do una super botte Io non so se riesco ancora A fare sto trick Lo riesco ancora a fare È incredibile Ieri non ce l'ho fatto Oggi ce l'ho fatto Però Incredibile Ok Sono un pochino migliorato Devo dire Non gioco da molto StumbleGuys Ma ieri Ho un pochino Recuperato Oddio Perdo tutto Perdo 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 E fammi passare Fammi passare Ok Let's go guys No Ma no Ok ragazzi ci abbiamo fatto Aspettiamo gli altri Si sono già qualificati Adesso l'astronauta Contro il pilota Adesso chi capita Ah capita Blockbash È bellissima È la mia seconda preferita La mia terza è super slide La mia prima è Hot Wheels Quella della Hot Wheels Che scemo Ok mi chiamo qua Mi sono già qualificato Così Così Rispondendo a me Sto scritto così Ho vinto la partita Così Subito ho vinto Va bene La voglia Tanto non vinci niente Se fai una Se crei una Come si cavolo si chiama Una partita personalizzata Vabbè facciamo una bella partita vera Così ci dà anche la ricompensa E così non imbogliamole anche Ok successivo Sarà molto più difficile trovare La rapa delle Hot Wheels Alcune volte te le ha da Alcune volte no Quando non te le ha da È veramente brutto Oggi sta mappa Ma veramente C'è troppo sta mappa L'unica mappa che mi è capitata oggi È stata questa Quando faccio le vere partite Questa è quella che mi capita sempre Incredibile Stumble guys Devi aggiustare questa cosa Per favore Per favore Mi qualifico Mi qualifico pure Let's go guys Let's go Ma cosa fa? Si butta Ma cosa fa? Non so neanche come l'aveva fatto cadere Alla fine C'è sopra la tavola Ah c'era il buco Aveva questo Mamma mia quante skin Uguali che abbiamo Hanno tutti praticamente la stessa skin Perché è gratis Quindi se volete guardarla un pochino Averla Andate sul negozio C'è C'è Io bot bash Lo odio E' fastidio Vabbè Lascia Oh no Oddio no Oddio no Per favore No Ok Dai 5 su 8 ce la faccio? No Non provateci Sì qualificato Ok Chissà Se viene Hot Wheels Chissà se è Hot Wheels Sare molto difficile Secondo Ok Successivo Date a favore A favore No Lo stempo ovviamente Toglietevi Dalle scatole Non so neanche perché si dica Toglietevi dalle scatole Dalle scatole Guarda che buffa Io non posso vincere sicuro Perché comunque Questi sono Toglietevi Sì però Se mi date anche i calci Ci dai Ma andate Guarda Vambico Ah ah Eh vabbè Ha vinto quello Buon per lui Vabbè Grazie per tutti Ci vediamo In prossimo video Ciao